Da lunedì 3 aprile avranno inizio i lavori di asfaltatura di viale Miramare nel tratto compreso tra Largo Roiano ed il cavalcavia ferroviario in direzione Barcola. Nella giornata di Anna sono stati posizionati appositi cartelli di segnalazione per il divieto di sosta nel tratto di strada sopraindicato dal 3 aprile, giorno in cui avrà approntato il cantiere, mentre l'asfaltatura avrà inizio a partire da martedì 4 aprile iniziando dalle ore 9 e mezza. Sono previste chiusure nella corsia di marcia in direzione Barcola per tratti di 200 metri circa con la creazione del doppio senso di marcia nella corsia in ingresso al centro cittadino. Conseguentemente il traffico veicolare proveniente da entrambe le direzioni suberea delle variazioni. Si consiglia cautela nel percorrere il tratto in questione data la presenza di personale al lavoro. Le operazioni dureranno circa 7 giorni lavorativi.